Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, eccoci qui. Anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio. Domani sera si torna in campo alle 20.45 e quindi come di consueto oggi torna il video di analisi. Partita per partita andremo a vedere i giocatori da schierare, quelli da evitare e qualche interessante scommessina. Mi anticipo già che su Fantalab grazie al team di sviluppo che ha introdotto questa nuova funzionalità che avevate chiesto in tanti sarà possibile andare a vedere i campetti in contemporanea per tutti i match. Tra poco vedrete. Detto questo vi ricordo che oggi inizieranno le live, ci vedremo sia qui sia su Stadeo e domani ci vedremo anche sulla piattaforma Viola. Per restare sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti, che siano video o live, è molto semplice. Basta che mi seguiate o su Instagram, profeta-fantacalcio, oppure se siete abbonati vi guardate il post nel gruppo Telegram o semplicemente qua su YouTube per tutti gli iscritti nella sezione Community. Allora, se non l'avete ancora fatto, lo sapete, like al video, iscrivetevi al canale che è gratis, gratis come scaricarvi OneFootball, l'app che vi aiuta nel fantacalcio in tutti i momenti della settimana, gli scambi, la formazione, l'analisi della vostra rosa, grazie a schede dettagliate, nuovissime, su tutti i vostri giocatori, dati, statistiche e avete anche la possibilità appunto di personalizzare la vostra dashboard per ricevere esclusivamente le notizie che vi interessano. Link qui sotto in descrizione, OneFootball mi raccomando. Allora, andiamo subito su Fantalab, così partiamo con questa analisi. Vi ricordo che gli indici di schierabilità che vedrete in questo video sono gli indici dell'algoritmo di Fantalab. I miei indici saranno invece disponibili da domani mattina per tutti gli abbonati livello scommessa e superiori qua su YouTube che hanno fatto la premium su Fantalab. Il link è sempre qui sotto in descrizione. Spostiamoci su Fantalab. Eccola qui, come promesso, nuova grafica. Milan-Toro, campetti vicino, consigliati, sconsigliati, scommesse, arbitro, tutte le informazioni che vi servono in un'unica pagina. Allora, partiamo subito dal Milan. Che partita sarà per il Milan? Ma è difficile chiamarla la partita del riscatto, la partita della svolta. Il Milan è in crisi nera. Arriva da tre sconfitte consecutive. Una situazione davvero difficile da decifrare perché ormai non possiamo dire che il problema è esclusivamente l'assenza di Magnano. Certo, sicuramente avere Tatarusano in porta non aiuta, però da qui a dire che è l'unico problema, assolutamente no. In questo Milan, al momento, non sta funzionando nulla. Non sta funzionando l'attacco. Giroud appare scarico. Leao stesso, dopo due partite in cui è partito dalla panchina, dovrà dare delle risposte. Il centrocampo sembra davvero in difficoltà, soprattutto dal punto di vista difensivo. La difesa è un colabrodo. Il portiere non dà sicurezze. In questo momento è davvero difficile consigliarvi qualcuno. E allora, nel dubbio, io mi affido al talento di Leao, per quanto riguarda appunto il Milan. Sconsiglio Tatarusano. E perché no? Vi lancio lì, ve la butto lì, la scommessa di Zlatan Ibrahimovic. Personalmente, sono riuscito a prenderlo in un paio di aste di riparazione. Come ultimo slot, come scommessa, considerato il momento di Giroud, considerati i problemi di Orighi, Ibra, chi lo sa, magari qualcosa potrebbe anche fare prima di dare l'addio al calcio. Per quanto riguarda il Toro, il Toro è una squadra in salute. Arriva da una serie di risultati utili. Sarà sicuramente una partita difficile per il Torino, perché il Torino è una squadra abituata a difendersi bene e a saper colpire negli spazi la squadra avversaria. Il Milan ha sicuramente problemi dietro, ma allo stesso tempo è una squadra che, almeno nelle ultime giornate, proprio per i problemi che sta avendo, non si sbilancia troppo. Anzi, spesso, rinuncia quasi ad attaccare e aspetta anch'essa nella propria metà campo. Quindi sarà una partita, secondo me, soprattutto nella prima parte, molto tattica, molto di attesa. Sarei stupito se questa partita finisse con tanti gol. E per questo motivo potrebbe essere una partita che si va a risolvere, magari con una giocata da fuori. E nel Toro, per questo motivo, vi vado a consigliare Mirancuk. La scommessa, comunque, di Vlasic è una scommessa che potrebbe valere la pena fare, perché è un po' che non segna. È comunque un giocatore che, se partirà a titolare, le sue occasioni le ha sempre. E allora, diciamo che dietro a Mirancuk, Vlasic diventa sicuramente il nome più interessante. Da sottolineare nel Toro l'assenza di Ricci, che dal punto di vista fantacalcistico non sarà un'assenza che sposta, ma dal punto di vista del Toro, la partenza di Lukic e l'infortunio di Ricci costringeranno, probabilmente, Juric a schierare Vierà. E lì, in mezzo, questa cosa qui potrebbe poi alla lunga farsi sentire. Quindi, attenzione ai problemi della mediana in casa Granada. Partita, secondo me, molto equilibrata. Il Milan deve fare punti, quindi, prima o poi, io me l'aspetto una vittoria del Milan. Magari anche non convincente, ma, di sostanza, potrebbe essere una partita da 2-1, da 1-0. Ecco, ripeto, non mi aspetto tantissimi gol. Passiamo quindi ad Empoli-Spezia. Come vedete, vi ho consigliato tanti giocatori, sia da una parte che dall'altra, perché questa potrebbe essere una partita che, soprattutto tra le seconde e terze linee, va a regalare diverse soddisfazioni. Beh, per quanto riguarda l'Empoli, ovviamente, non posso che consigliarvi Baldanzi, uno dei pochissimi giocatori che non è mai sceso sotto al Sainz stagione. È una cosa incredibile. Caputo, perché comunque lì davanti, tra lui e gli altri attaccanti della squadra toscana, appare sempre il più pericoloso, e poi Olmen lo Spezia, che comunque sta facendo bene. Sarà una partita interessante da quella parte, perché comunque se la dovrà vedere con Parisi, che è, tra l'altro, nelle scommesse, perché anche lui, altro giocatore molto interessante, potrebbe essere un bel duello da quella parte. Sconsiglio Amian, che comunque non sta facendo benissimo, e Shomurodov è sicuramente, invece, una scommessa da valutare, se non abbiamo grosse alternative. Sarà interessante capire come lo Spezia proverà ad arginare Baldanzi tra le linee. Lo abbiamo già detto negli scorsi video di analisi, ormai pochissime squadre giocano con il trequartista, e questo comporta il fatto che anche le squadre, più in generale, non sono abituate tantissimo a difendere sul trequartista, perché ormai giocano tutti con la punta, i due esterni d'attacco, o con, magari, due punte. Quindi, avere un trequartista da marcare non è sicuramente facile. Solitamente, cosa si fa? Si abbassa il centrale di centrocampo, però questo poi potrebbe causare dei problemi quando si è in fase di possesso palla. Vediamo, sono curioso di vedere che cosa farà lo Spezia. L'Empoli la vedo favorita, quindi comunque potrebbe essere una partita da uno, anche se, ovviamente, lo Spezia già in stagione ci ha dimostrato di essere una squadra interessante anche in trasferta. Vi ricordo, e questo ve lo ripeto, che se voi andate col mouse sopra l'arbitro, vi verranno fuori alcune statistiche interessanti relative all'arbitro. Ad esempio, l'arbitro Giua, che è appunto l'arbitro di Empoli-Spezia, ha una media di 0,5 rigori a partita. Vuol dire che ogni due partite lui un rigore lo dà. Occhio, quindi, eventualmente, anche ai rigoristi delle rispettive squadre. Lecce-Roma. Che partita sarà? Ma, allora, io personalmente vi ho consigliato i due giocatori di maggior qualità, da una parte e dall'altra. Strefezza nel Lecce e di Bala nella Roma. Sconsiglio un TT, perché potrebbe soffrire la fisicità dei difensori avversari sui calci da fermo. Scommesse di Francesco nel Lecce e Isha Raui nella Roma, che potrebbe anche partire titolare. È una partita questa, secondo me, tutt'altro che scontata. Non mi stupirai se uscisse fuori un pareggio anche da questo match, perché il Lecce in casa comunque è un avversario temibile e la Roma, anche in trasferta, spesso non ha regalato delle prestazioni così convincenti. Mi aspetto, soprattutto nel Lecce, oltre a Strefezza, una prova convincente degli altri attaccanti. Colombo nelle ultime uscite ha avuto diverse occasioni e spesso anche fallite. Di Francesco potrebbe ritrovare quella vivacità importante, sfruttando magari alcune lacune che a volte Zalensky lascia alle proprie spalle. Allo stesso tempo però la Roma può colpire. Il modo in cui colpisce maggiormente la Roma è sicuramente, appunto come dicevo prima, i calci da fermo, quindi occhio ai calci d'angolo, occhio ai calci di punizione. Il Lecce dovrà essere molto attento in queste situazioni, motivo per cui uno come Smalling, ma anche ormai uno come Ibanez o Mancini, sono nomi che possono esservi utili in chiave modificatore, soprattutto Smalling, ma attenzione anche al discorso bonus. Spesso in una difesa 3 senza modificatore, io vi vado a consigliare un difensore della Roma, anziché magari un difensore da 6 in pagella, proprio perché i difensori della Roma rispetto ad altri sono sicuramente più pericolosi in chiave offensiva. Spostiamoci quindi su Lazio-Atalanta. Che partita sarà questa? Ma come vedete io nei consigliati vi ho messo così quasi simbolicamente i mobile Zaccagni-Lukman e nelle scommesse Bogat. Perché? Ma perché qui in realtà, ragazzi, sconsigliarvi dei giocatori è difficile, perché comunque anche i difensori delle rispettive squadre o sono difensori che difficilmente tradiscono o sono difensori che vi possono portare comunque dei bonus. Andarvi a consigliare qualcuno nella Lazio che non siano i soliti nomi è difficile, perché vi avrei dovuto mettere Luiz Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson, Melinkovic, Savic. I soliti 5. Stessa cosa nell'Atalanta, perché dal momento in cui abbiamo Hollywood, Lukman, Bogat, Coppiners, questi 4 sono da schierare. Quindi questa è la classica partita che da un punto di vista del fantacalcio non dobbiamo neanche preoccuparci troppo di come andrà a finire. Cioè noi non siamo qui per fare pronostici, non siamo qua per dire vincerà la Lazio, vincerà l'Atalanta. Cioè ci serve questa cosa quando abbiamo bisogno di fare delle scelte e siamo all'interno di alcuni ballottaggi nel fantacalcio. Ma in una partita come questa il mio consiglio è se avete dei giocatori buttateli dentro e non fatevi troppi problemi. Orsato è un arbitro che dà pochissimi rigori. Quindi questo potrebbe essere un qualcosa che in altre partite magari vi condiziona le scelte, ma in questo caso anche qui è un'informazione abbastanza inutile perché tanto se avete Immobile nella Lazio o avete Lukman nell'Atalanta sono giocatori che schiererete al 100%. Quindi qui davvero secondo me c'è poco da discutere in ottica fantacalcio, c'è poco da ragionare. Io dalla metà campo in su in entrambe le squadre li schiero magari con delle coperture e stop. Posso fare delle riflessioni sui difensori, ma soprattutto Scalvini da una parte e la coppia Romagnoli-Casale dall'altra farei comunque fatica a toglierla. Se proprio devo trovare così il difetto in queste squadre magari un Marusic, un Lazzari, un Ruggeri non sono nomi che al fantacalcio andrei a schierare senza alcun dubbio. Lo stesso Jim City magari se ho delle alternative migliori guardo altrove. Musso stesso se ho delle alternative migliori appunto guardo altrove. Però la Lazio in casa ad esempio invece difensivamente mi ha sempre convinto ultimamente quindi lo stesso Provedel potrebbe comunque essere una scelta consigliata e assolutamente schierabile. Passiamo quindi a Udinese-Sassuolo. Allora che partita sarà questa? Una partita che secondo me mostrerà in vari frangenti le lacune di queste due squadre perché il Sassuolo ultimamente si è un po' ripreso è vero però sicuramente difensivamente ha ancora dei problemi e l'Udinese nonostante l'assenza di Delofeo e nonostante un Toven che sta ancora cercando di inserirsi ha le armi per colpire questa squadra e infatti nei consigliati vi ho messo Beto e Samarzic e come scommesse Udoji. Allo stesso tempo però anche l'Udinese ultimamente non ha convinto al 100% al di là di quella vittoria ottenuta in extremis sul campo della Samp qui a Genova poi è una squadra che fatica a ritrovare quello smalto che avevamo apprezzato largamente nella prima parte di stagione ed è per questo che oltre ovviamente allo scontato Berardi io vi sconsiglio Bian che è un giocatore che secondo me farà fatica sia calcisticamente sia fantacalcisticamente in questo Sassuolo qualora dovesse giocare titolare perché potrebbe soffrire il dinamismo di giocatori come Arslan e Wallace e la qualità di Samarzic e allo stesso tempo però nelle scommesse vi vado a proporre un laurentè perché laurentè perché sicuramente Ezibue in chiave offensiva ha dimostrato di poter regalare qualcosa ma allo stesso tempo difensivamente o ci andrà a pensare Becao da quella parte oppure potrebbero esserci degli spazi importanti per laurentè e in questo momento mai come quest'anno il Sassuolo dipende dai suoi esterni perché centralmente stanno facendo fatica tutti Pinamonti ha fatto fatica Alvarez ha fatto fatica vedremo se giocherà De Fren ma comunque manca una prima punta di ruolo vera vedremo quando tornerà Pinamonti dopo l'infortunio se cambierà qualcosa quindi in questo momento sostanzialmente il Sassuolo può fare male in due modi o con gli esterni la qualità di laurentè e di Berardi o con inserimenti di Frattesi e sarà interessante qui invece capire se effettivamente Bayrami giocherà nuovamente dall'inizio perché dico che è interessante questa cosa perché sarei stupito se in una partita in trasferta il Sassuolo andasse ad attaccare con i tre davanti con Frattesi e con Bayrami Bayrami nell'ultima partita fatta ha avuto un paio di occasioni da gol fallite però ha dimostrato che anche in quella posizione può comunque essere molto pericoloso occhio però agli equilibri perché dicevamo poco fa che o Bianco potrebbe andare in difficoltà proprio perché se il Sassuolo attaccasse con cinque giocatori aggiungiamoci che dietro sicuramente il Sassuolo qualche problema lo ha occhio occhio perché l'Udinese soprattutto in contropiede sa colpire quindi se il Sassuolo dovesse sbilanciarsi troppo potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa qualità degli uomini offensivi quindi sarei stupito se effettivamente il Sassuolo giocasse così io mi aspetto più probabilmente una mezzala più di contenimento da parte di Dionisi e poi magari un Bayrami lanciato l'ultima mezz'ora in campo lo vedo più per ora dal punto di vista tattico come un jolly a gara in corso però magari non sarà così e a quel punto lì vedremo quello che succederà Bologna-Monza allora beh nel Bologna ragazzi consigliato Orsolini nelle ultime giornate sta avendo un rendimento da top Arnautovic ancora assente i rigori sono cosa sua qui c'è poco da dire chi ha creduto in Orsolini fin da inizio anno adesso è giusto che si goda questo momento stessa cosa si può dire di Pessina il rigore al 97 98 contro la Samp ha sottolineato che al momento è lui il rigorista da un punto di vista degli inserimenti non è più il Pessina di qualche anno fa però col fatto di essere un rigorista sicuramente questo ne esalta le doti al fantacalcio quindi Orsolini e Pessina sicuramente consigliati aggiungo Caprari che non è andato in gol come mi aspettavo contro la Samp credevo facesse il gol dell'ex però è comunque uno dei giocatori sempre più pericolosi della squadra di Palladino sconsigliato Rovella perché fantacalcisticamente porterà pochissimi bonus scommesse da una parte Ferguson dall'altra Ciuria sono probabilmente insieme a Baldanzi i centrocampisti più pagati nelle aste di riparazione è arrivato forse il momento di goderseli un po' personalmente se avessi Ferguson se avessi Ciuria e non avessi grosse alternative sarebbero sicuramente due giocatori che andrai a proporle poi in realtà ci sono altri nomi secondo me schierabili lo stesso Zirk Zee Pettagna però diciamo che se abbiamo alternative valide forse forse guarderei altrove poi Carlos Augusto ragazzi io non ve lo vado più neanche a consigliare negli underdog nella top 11 usciranno domani ve lo dico già domani uscirà la top 11 underdog la top 11 scommesse qua su youtube e poi su Stadeo come sempre domani mattina esce la top 11 delle certezze se dovessi consigliarvi giocatori come Posh Carlos Augusto Doig Strefezza eccetera eccetera sappiate che ve li troverete nella top 11 certezze non li troverete mai più nella top 11 underdog perché ormai sono i migliori nel loro ruolo qui al fantacalcio Posh l'ho menzionato prima ovviamente si schiera sempre qualcuno dice che segna a me poco importa finché segna Posh sta spostando in maniera esagerata gli equilibri quindi è giusto puntarci poi che segni per caso segni per meriti al fantacalcio ci interessa fino a un certo punto anche perché se andiamo a vedere la metà dei gol che ha fatto Lukman quest'anno anche lui è stato fortunato quindi per questo motivo non andiamo più a schierare Lukman no assolutamente sfruttiamo è l'anno di Posh è l'anno di Lukman è fortuna giusto andare a mungere la mucca appunto finché c'è del latte sconsiglio Marlon in difesa nel Monza mi sembra l'anello debole di questa retroguardia stessa cosa si può dire nel Bologna qualora dovesse giocare Sosa vicino a Medel ecco lì secondo me potrebbero esserci dei problemi vedremo arriviamo a Juventus Fiorentina consigliati Vlaovic e Nico González sconsigliato Barak scommesse Szczesny e Brekalo ma perché Szczesny scommessa perché comunque non arriva da un periodo così roseo e la partita contro la Fiorentina qualche insidia la potrebbe regalare detto questo se non abbiamo portieri che hanno partite molto facili che ci danno le stesse garanzie che ci potrebbe dare Szczesny io comunque andrei sul polacco perché Brekalo perché qualora dovesse giocare da quella parte potrebbe comunque essere interessante così come Buonaventura non ve l'ho messo ma lo stesso Buonaventura potrebbe sfruttare qualche amnesia che capita solitamente ad Alexandro Brax consigliato soprattutto per la sua gestione io mi aspetto una Juve vincente una Juve che comunque con il ritorno di Vlaovic con il ritorno di Chiesa qualora i giocatori che stanno salendo di livello penso a Locatelli e a Fagioli ma lo stesso Kostic dovrebbe comunque aver iniziato diciamo a trovare la via giusta per risalire piano piano la classifica è un Vlaovic che sta bene non so se sarà un let motive costante di tutto il girone di ritorno ma in questo momento non andarlo a schierare perché gioca contro la Fiorentina in passato contro la Fiorentina mi sembra abbastanza una follia quindi io comunque lo andrei a mettere senza assolutamente avere troppi dubbi Danilo in casa Juve è sempre una garanzia in termini di modificatore nella Fiorentina invece trovare garanzie per quanto riguarda la retroguardia è dura è molto dura e infatti non vi vado a consigliare in maniera particolare a nessuno ripeto secondo me Nico González qui c'è qualcosa che non va c'è qualche errore dal punto di vista del modulo c'è un Nico González in mediana ovviamente questo è un errore Nico González sarà ovviamente esterno d'attacco e secondo me la Fiorentina se vuole impensierire la Juve lo potrà fare soprattutto con la qualità dei suoi esterni vedremo quello che succederà vedo però la Juve favorita passiamo quindi a Napoli Cremonese qua io vado abbastanza rapido ragazzi vi ho messo così sconsigliati Vasquez Dessers scommessa Lusano consigliati di Lorenzo Mario Rui per non fare i soliti nomi di Ossimene Veraschelia qui c'è poco da studiare c'è poco da inventarsi se avete dei giocatori del Napoli buttateli tutti dentro se avete dei giocatori della Cremonese tolto Valeri che per un'altra volta probabilmente non scenderà sotto al 6 io gli altri li eviterei poi magari la Cremonese farà la partita della vita e va a spugnare il Maradona però razionalmente questa è una partita dove il Napoli secondo me può veramente fare tanto tanto bene in ottica fantacalcio e la Cremonese dietro soprattutto può fare tanto tanto male quindi io qui vado molto rapido giocatori del Napoli totalmente buggati quest'anno schiriamoli in blocco Cremonese da evitare banale però la realtà del campionato ci sta dicendo questo basti pensare all'ultimo match contro lo Spezia passiamo quindi a Verona Salernitana che invece si prospetta una partita più interessante da leggere perché perché il Verona dietro sta salendo di livello anche grazie a uno yen che infatti vi ho messo nelle scommesse consigliati ovviamente Doig e il nuovo arrivato Ngonje già in gol nella Salernitana consigliato Dià anche se bisognerà capire se giocherà da esterno o da seconda punta sconsigliato Lasagna altra scommessa Viena il Verona qui abbiamo un Lazovic in mediana poi sappiamo che in realtà lui giocherà più che altro trequartista dietro appunto alle due punte la forza del Verona in questo momento oltre a una difesa ritrovata sono gli esterni Doig e De Paoli la qualità appunto di Lazovic e altro giocatore ovviamente da monitorare di cui abbiamo già parlato Duda nella Salernitana invece si deve un po' ritrovare quell'entusiasmo offensivo che si è un po' perso nelle ultime giornate continuo continuo a preoccuparmi un po' la difesa soprattutto della squadra di Nicola occhio a Sambia però perché ha dato qualche segnale importante anche contro la Juve allora è una partita questa dove comunque vedo il Verona favorito e attenzione perché qualora il Verona dovesse fare tre punti almeno per quanto riguarda il Verona potrebbe un po' riaprirsi così la speranza di restare nel nostro campionato quindi attenzione perché questa è una partita importante per Verona e Salernitana ma soprattutto importante per il campionato perché ripeto qualora il Verona dovesse fare tre punti secondo me il discorso terz'ultimo posto si andrà a riaprire in maniera quasi secondo me inaspettata chiudiamo quindi con Samp Inter ovviamente Inter nettamente favorita qua ne consigliate vi ho messo Lautaro Di Marco ma in realtà un po' come per il Napoli in questo caso tutta l'Inter è altamente schierabile sconsigliato vi ho messo Murillo ma anche qui il senso è giocatori della Samp evitiamo se proprio vi piace così azzardare vi piace rischiare Gabbiadini ha sicuramente dato un segnale importante con la doppietta nell'ultima giornata contro il Monza e Wings ha fatto vedere che comunque rispetto ai suoi compagni di squadra qualcosina in più nelle gambe forse ce l'ha anche occhio ad Armian potrebbe continuare a fare molto bene vedremo le scelte di Inzaghi ci sono giocatori fuori comunque importanti penso a Lukaku penso a Danfries penso a Gossens diciamo che questi nomi sono comunque schierabili con copertura partita da due la Samp farà quello che riuscirà a fare però date le ultime partite mi sembra che ormai la direzione sia tutt'altro che positiva quindi andrei fortemente sui giocatori dell'Inter eccoci qui ragazzi queste erano le dieci partite di questa ventiduesima giornata fatemi sapere voi che cosa ne pensate io vi ricordo che oggi ci vediamo in live alle 15 su Stadeo e a seguire poi qui su YouTube domani per chi vuole ci vediamo sia sulla piattaforma Viola sia qua su YouTube in tardo pomeriggio per sapere tutti gli orari basta che andiate nella sezione community qua su YouTube su Instagram o su Telegram la top 11 delle certezze uscirà domani mattina su Stadeo link qui sotto in descrizione gli indici di schierabilità usciranno domani mattina su Fantalab link qui sotto in descrizione e poi domani ovviamente uscirà il video delle due top 11 alle 13.30 come sempre qua su YouTube underdog e scommesse grazie mille ciao a tutti mi raccomando like iscrivetevi al canale e alla prossima ciao iscrivetevi al canale